Buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino, occhio ai giornali sul canale 17 di Fano TV, questa è la rassegna, il commento alla stampa del giorno. Iniziamo dal santo, anche se oggi più che un santo la Chiesa Cattolica celebra la solennità dell'annunciazione del Signore, un fatto, un evento, cioè quando nella città di Nazareth l'angelo del Signore diede l'annuncio a Maria e le disse ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. E Maria che cosa ha risposto? Risposto ecco sono la serva del Signore, venga di me secondo la tua parola. E adesso andiamo a vedere il tempo. Trebbimento.com Una regione così bella, soleggiata, qualche nuvoletta soltanto appena appena nel Piceno, nel Fermano, ma poca roba. Per il resto ecco la giornata di oggi e vediamo anche quella di domani. Domani c'è un po' di nebbia, qualche nebbia, qualche foschia. Poi nel pomeriggio invece le piogge nel Maceratese, nell'Alto Pesarese, limitatamente però all'entroterra. Ma comunque come dicevamo le temperature sono in aumento e addirittura toccheremo anche i 18-19 gradi. Di tutt'altro genere invece sono le notizie, tutt'altro che sole, tutt'altro che primavera. Qui siamo nel pieno dell'inverno, nel cupo inverno, quello più freddo, rigido e buio. Siamo nella pandemia, nel tempo in cui purtroppo le cose non stanno andando bene nemmeno nella nostra regione e ad aggiungere il carico ci ha pensato anche la notizia che vi abbiamo dato ieri, anche quella della positività di due persone che hanno una variante nuova scoperta nelle Marche. La variante è quella new yorkese e quindi adesso si tratterà di capire che cosa, intanto se si riuscirà a diffondersi perché ci dicono che questi due pazienti che stanno bene, per fortuna, che hanno questa variante, questo Covid con la variante new yorkese, sono stati isolati e si spera che non abbiano fatto, tra virgolette, danni, nel senso che non abbiano contagiato altri. Però abbiamo visto che essendo due persone che non hanno nulla a che vedere tra loro, quindi due cluster, come si dice, completamente diversi l'uno dall'altro, questo dimostra che il virus, anche in questo caso, con la variante new yorkese, gira molto velocemente. Insomma, facciamo acqua, troviamo acqua da tutte le parti e non è una bella notizia. Ma andiamo a vedere i giornali. Marche Nord intanto chiede i medici perché è naturale che quando molti stanno male, molti devono fare il corso alle cure dei medici, c'è bisogno poi di chi cura e chi controlla, chi presta attenzione a queste persone che entrano in ospedale. Sollicitato alla protezione civile e al Ministero della Difesa l'invio di 10 sanitari e altrettanti infermieri. La variante new yorkese, primi casi in Italia, in due positivi nel peserese, marche un boom di ricoveri. E poi i vaccini, vaccini in casa, avvio ad ostacoli, ferma al 60% l'adesione dei medici. Poi sotto, lasciata dal fidanzato, vuole togliersi la vita, la polizia però la salva. A Pesero pattinano al mare, ma sono di gabice, quindi multate quattro amiche. Botte alla moglie, viene condannato a due anni e dieci mesi. Questo è successo a Colleometaro, un processo che si è tenuto a Pesero. E poi la notizia è che l'acqua è troppo fredda e quindi le tartarughe soffrono. L'ultima soccorsa a Fosso Signore, interventi anche a Marzocca e a Senigallia. Andiamo a vedere adesso il carino invece di Pesero, la storia, il carino questa mattina va giù duro, pubblica e a questo punto fa bene. Delle storie, storie che dimostrano come il virus non sia una passeggiata e chi lo becca, chi lo prende, spesso rischia e rischia grosso. Come è successo a questo ragazzo di 31 anni che dice sono salvo per miracolo, ma che paura, ho creduto di morire. Intanto variante new yorkese, qui i primi casi, positive due persone in provincia, stanno bene, non ci sono prove che annulli però il vaccino. Poi a Tavuglia denunciarono i ladri, lo ricorderete, ma furono multati, adesso invece arriva per loro il premio e oltre la targa insomma anche l'annullamento della multa. Storia di Etofine, lui lo lascia, lei mi uccido, un agente di polizia lo salva, poi incinta e contagiata, una mamma di 30 anni ricoverata in rianimazione a Salesi di Ancona. Il fronto pedaliero, boom di ricoveri verso l'apertura di un altro modulo a Galantara. Vaccini, la fase delle categorie prioritarie, ecco tutte le date per combattere il virus anche a suon di punture. Villa Caprile, ecco il progetto del nuovo convitto, poi di taglio basso. C'è la notizia, o meglio, l'intervista che Eusebi ha realizzato con Bizzocchi, che oltretutto è malato, non di Covid, e che commuove la vis, lottate per noi, dice lui dal suo letto, con un filo di voce. Poi Luca Traini, dal Calino di Macerata, ultimo atto, la Cassazione conferma la condanna a 12 anni per strage. Le pagine interne, invece, mille ricoveri in due settimane, il Covid non da tregua ai reparti, una media di oltre 70 accessi al giorno, 11 nelle terapie intensive, ogni 24 ore 45 dimissioni. Saturazione, intorno al 60%, sia nell'area medica che in rianimazione, assistiti 1.321 malati dal 10 di marzo. I pazienti nelle Marche sono aumentati di 200, superato il picco della prima ondata, ovvero di fine marzo 2020. E poi, sempre dal Corriere, Marche Nord chiede alla protezione civile medici in supporto, almeno 10 sanitari sollecitati, ma per il momento ne arriverà soltanto la metà, ovvero 5 per rafforzare gli infermieri, bisognerà però attendere la metà di aprile. Incontro, intanto, tra sindacati e i vertici dell'azienda, sulla riorganizzazione, ovviamente l'azienda di Marche Nord, si abbassa l'età nelle terapie intensive, c'è anche un 25enne. Intanto, sulla variante di New York, il Carlino titola due case in provincia, pazienti in isolamento ma stanno bene, sono persone provenienti da diversi comuni, la regione subito scattate le misure di contenimento per contrastare i potenziali focolai. I due contagiati, come dicevo, sono in isolamento e stanno bene, assicura Elisabetta Esposto, dell'Asur di Pesaro. Si tratta di due persone provenienti da due comuni diversi della provincia, in isolamento dal 18 di marzo, data in cui abbiamo inviato i campioni al laboratorio di virologia di Ancona per il sequenziamento. L'indagine epidemiologica era già stata fatta ma ora verrà rifatta in maniera ancora più approfondita. Stanno bene, hanno lievi sintomi o senza addirittura, anzi uno dei due ha già l'appuntamento per il tampone per verificare la negatività. Sono entrambi venuti in contatto con positivi ma non c'è correlazione tra loro. I due casi non appartengono infatti allo stesso cluster, questo a dimostrazione che le varianti girano tanto. Intanto sul Carrillo di Pesaro ancora le storie, storie di chi sta vivendo sulla propria pelle il dramma di questo virus, di questa pandemia. C'è una donna che è residente nel Pesarese, una donna giovanissima che ha la ventottesima settimana di gravidanza, non può essere fatto il cesario, è ricoverata in rianimazione al Salesi di Ancona. La paziente è seguita da Alessandro Simonini che è dell'Unità Operativa di Anestesia e Rianimazione e dice che è arrivata con un quadro clinico la paziente abbastanza difficile a causa di una seria carenza respiratoria provocata appunto dal Covid-19 e adesso seguirà un percorso molto delicato. La donna non è stata intubata in quanto essendo in stato di gravidanza avanzato in un intervento di questo tipo potrebbe mettere a rischio il resto del periodo di gestazione, per questo, dice ancora il primario, la stiamo ventilando meccanicamente in maniera non invasiva e al tempo stesso le somministriamo una terapia che possano essere in grado di risolvere la carenza respiratoria provocata dalla polmonite Covid. E poi ricorda il resto del Carlino questa mattina anche che questa donna non è l'unica che purtroppo ha avuto a che fare ha dovuto fare i conti con il Covid e donne in gravidanza che sono state ricoverate e che per fortuna l'hanno potuta in qualche modo raccontare. Nel 2021 c'è stata un'altra giovane partorienta la ventitresima settimana, per esempio, ricorda il Carlino, così come andando indietro nel tempo, ad aprile 2020 c'è stata anche la storia della mamma di 31 anni di Civitanova, anche lei che è stata intubata e operata con un cesareo per far nascere il feto prematuro. E sempre sui giornali, ecco, l'altra storia a pagina 5, sempre del resto del Carlino di Pesaro, eccola qua, la storia è di questo giovane che si chiama Fabio Napolitano, 31 anni, di Fano, nella sua camera dell'ospedale San Salvatore, racconta, è stata l'esperienza più traumatica della mia vita, per la prima volta ho davvero pensato che sarei potuto morire, per questo ai ragazzi di ITCO state attenti, anzi attentissimi. Io ho letto tutta questa intervista stamattina e devo dire che fa un certo effetto sentire un palestrato, una persona dunque uno sportivo, uno che sicuramente ha tanta forza in corpo come sicuramente più della media dei ragazzi della sua età, perché chi fa sport chiaramente può essere in un certo modo avvantaggiato, però a un certo punto si rende conto di aver fatto anche lui degli errori e l'errore è stato quello di aver forse aspettato un po' troppo, aver fatto troppo leva sul fatto che lui era uno sportivo, quindi poteva resistere, eccetera, eccetera. Ecco, tutte valutazioni sbagliate, perché il Covid alla fine non guarda se sei uno sportivo, se sei alto, basso, moro, biondo, entra e nel momento in cui entra fa quello che deve fare. E allora, lui dice, non riuscivo a respirare, una sensazione terribile, sono arrivato a un soffio dall'essere intubato, anche i medici non pensavano che avrei potuto evitarlo, avevo tutti questi tubicini, poi ovviamente anche lui racconta, così come tanti altri che sono usciti da questo tunnel, quello che più pesa poi è l'aspetto psicologico, non sapere se ce la farai, non sapere se riuscirai a superare questo momento, ed è qualcosa che a 31 anni è difficile da accettare. Per fortuna, così come ero peggiorato altrettanto velocemente, poi dice ho recuperato. E ha fatto delle terapie anche antivirali, il plasma iperimmune, e poi i valori sono risaliti. Adesso, al telefono con Benedetta Iacomucci, dice insomma di stare meglio, ma lancia un appello, e che noi rilanciamo attraverso Occhio e Giornali, che è questo, sarei dovuto venire prima. Eccolo qua, intanto l'appello è di stare attenti, questo chiaramente, state attenti, anzi attentissime. Ma poi dice lui, se c'è una cosa che mi rimprovero, è la negligenza, ho lasciato correre, forse mi ha salvato solo il fatto di essere uno sportivo, sarei dovuto venire prima. Venire prima dove? In ospedale. 13 fasce per i vaccini, prima vulnerabili e fragili, poi tocca ai settantenni. La Regione, siamo sul Corriere, ufficializza la strada da qui a giugno. Ad aprile sono pronte 165 mila dosi di vaccino. Accordo con COS, si occuperà dei disabili assistiti nelle strutture residenziali. Dunque, la campagna vaccinale si prepara a diventare di massa nella Regione Marche. La tabella di marcia viene scandita nell'aggiornamento del piano vaccinale, deliberato martedì dalla Giunta, che individua sulla base delle linee guida nazionali 13 target, ovvero 13 obiettivi, ognuno con la propria modalità di prenotazione ed una diversa priorità nella somministrazione, a seconda dell'età e della presenza o meno di patologie. I marchigiani che possono essere vaccinati, si stima siano 1.311.408, ovvero la popolazione con più di 16 anni, stiamo entrando, dice Acquaroli, il governatore, nella fase massiva di vaccinazione. E dunque, per il mese di aprile, tra l'altro, sono previste l'arrivo di 28.300 dosi di AstraZeneca, 133.380 dosi di Pfizer e 14.300 vaccini targati Moderna. Ora, nel giornale di oggi, e questo è molto interessante, Martina Marinangeli scrive nel dettaglio chi sono, cosa sono, come fare e come non fare. Quindi vi invito ad andare in edicola, a prendere il giornale e a leggervelo, perché ci sono dati interessanti che possono, anche dal punto di vista psicologico, rasserenare. Perché già sapere che, in un modo o nell'altro, qualcuno sta pensando a voi e che voi potrete, tra poco, a breve, iniziare a telefonare, fare, per prendere appuntamento e farsi vaccinare, già cambia la giornata. Ecco, quindi il non sapere nulla, invece, crea ansia, paure e paralisi. Quindi è anche una questione mentale. Essere informati è importante per sapere con chi abbiamo a che fare, ecco, in sostanza. Vaccini dal 29 alle prenotazioni dei vulnerabili, gli over 60 a giugno, gli under invece a luglio, ecco il cronoprogramma della seconda fase, fissate regole date anche per i disabili gravi, i familiari, eccetera, eccetera. Le categorie tra i 70 e i 79 anni partiranno ad aprile, come annunciato. Obiettivo, entro l'estate, dosi a gran parte dei marchigiani. L'obiettivo è, almeno secondo questo cronoprogramma, salvo imprevisti o blocchi, come abbiamo visto con AstraZeneca, è quello di vaccinare i marchigiani entro l'estate. Non so se la cosa sia fattibile, parliamo di un milione e 300 mila persone, ma comunque entro l'estate, ancora abbiamo un paio di mesi, dipende. Se si farà, come dice Draghi, vaccinate anche di notte, forse sì, di giorno non lo so. Ma comunque l'importante è non fermarsi. Intanto Valmetauro, l'allarme dei contagi non si ferma, siamo sempre sul Carlino, pagina 28, da Urbania, non c'è tregua. Urbania e non solo continuano a registrare numeri preoccupanti. La situazione è critica anche a Sant'Angelo in Vado. A Fermignano i positivi sono 68 invece e si mantengono stabili sotto i 70 da una settimana a questa parte. Nel comune di Peglio invece la percentuale dei positivi è la stessa di Urbania. Su 650 abitanti i contagiati sono 10. E sempre ad Urbania, sulle benedizioni pasquali, ci si organizza con il kit fai-da-te. Il kit fai-da-te che prevede appunto una boccetta d'acqua, la palma, un foglietto con delle preghiere, insomma un piccolo benedizionale. Allora andiamo a vedere invece, volevo farvi vedere un'altra pagina che adesso non ritrovo più, ma la vediamo qua. Sì, ecco, prima di parlare anche di altra cronaca. Allora, pagina 5 del Corriere Adriatico. La nostra maxicella è per il freddo, come 80 frigoriferi per le fiale d'oro, la Vitri Frigo ha messo a disposizione i suoi laboratori tra i più avanzati d'Europa. Sapete che alcuni vaccini hanno bisogno di essere raffreddati, di stare a una temperatura molto bassa, fino a meno 40 gradi centigradi. Poi la buona notizia è che Gimbo Tamberi è negativo. Prima esulta e poi si allena. La grande gioia del campione che corre subito al Pala Indoor per continuare gli allenamenti. È un campione di salto in alto. Allora, la cronaca invece. C'è questa ragazza che, come tante, insomma, hanno, come succede ogni giorno, uomini e donne che si lasciano in qualche modo, interrompono una storia d'amore. Questa ragazza a un certo punto decide di farla finire, almeno così ha detto. Fa una lite al telefono, lei viene lasciata e quindi dice di volerla fare finita. Sono stati minuti drammatici raccontati dal Corriere Adriatico questa mattina, in cui le forze dell'ordine hanno cercato di raggiungere questa ragazza per impedirle di compiere gesti assurdi. Lei è una ragazza di 23 anni, residente nell'entroterra pesarese, legata sentimentalmente ad un ragazzo di Taranto, e durante questa telefonata è scoppiato un litigio, tanto che lui le ha detto che l'avrebbe lasciata. La giovane ha reagito in maniera molto negativa, tanto da dire al fidanzato che l'avrebbe appunto fatta finita. Poi ha riattaccato il giovane, che non era lì proprio a due passi, a chilometri di distanza, molto preoccupato, ha dato l'allarme alla polizia. Polizia che chiaramente si è messa subito sulle tracce di questa ragazza, come racconta Luigi Benelli sul Corriere Adriatico, e l'ha in qualche modo tranquillizzata, salvata, e quindi tutto è andato bene. Mentre è finito a processo una violenza, una violenza tra uomo e donna, tra marito e moglie, è una violenza che addirittura è arrivata fino a far svenire la moglie. Lei, il marito, è stato condannato a due anni e dieci mesi, una sentenza a carico di un 32enne che aveva scatenato una lite pubblica con la consorte a Calcinelli. Il litigio era avvenuto in un pub, le botte fino a farla perdere i sensi alla moglie, il parapiglia con gli amici di lei, intervenuti per soccorrerla. Insomma, condannato a 32 anni, un marocchino protagonista di questa vicenda, è una storia di violenza consumata a Colli al Metauro, precisamente a Calcinelli, e che ieri, davanti al collegio del Tribunale di Pesaro, ha trovato l'epilogo con una sentenza di primo grado. A difesa della donna intervennero i suoi amici, vittima anche la figlia della coppia. Mentre sulla pagina di Fano dell'arresto del Carlino, anziani in attesa, ma imprenditore vaccinato. Il titolare è un cinquantenne di una ditta che ha un appalto con l'Asur, già la seconda dose Pfizer si difende dall'accusa di essere un saltafila, dice io sono in regola, ci hanno chiesto se volevamo avere il siero, io ho detto sì e quindi l'ho fatto. Mentre positivi la curva in flessione, in calo sia Fano che lungo la Val Cesano, in città si era registrata una crescita dell'82% negli ultimi 30 giorni, si era passati dai 248 positivi a 452. Quindi c'è stata un po' una frenata. Poi Sandro Franceschetti sul Carlino di Fano, sulla pagina di Fano, evidenzia numero per numero, comune per comune, com'è la situazione. Intanto la fusione Aset-Marche-Multiservizi piace anche all'onorevole Alessia Morani del Partito Democratico. La giudica questa fusione opportuna, la mossa del Sindaco Seri, auspico una decisione basata su dati oggettivi e fuori dalle ideologie. Nove sindaci però hanno chiesto di mettere le carte di questa fusione in tavola, l'appuntamento è per domani. La Morani dice, ritengo la scelta di Seri opportuna e condivisibile ed auspico che insieme agli altri sindaci del territorio venga presa una decisione sulla possibile fusione tra Aset-Marche-Multiservizi basata su dati oggettivi, prefigurando così prospettive concrete di sviluppo per la nostra provincia, fuori dalle ideologie e dai pregiudizi. E poi ne stiamo a discutere da un po', già vent'anni fa avevamo detto sì. Il nuovo ipotetico Assetto piace ai sindacati, ovani della CGL, ragionevole ed equilibrata la posizione del sindaco. Mentre per Marta Ruggeri questa fusione è una svendita. Marta Ruggeri dei 5 Stelle per il consigliere regionale la vicenda mette in crisi la maggioranza comunale. Ancora dai giornali, l'ex Carducci da Fano vogliono fare le aule sul tetto. Il nuovo progetto elaborato da uno studio di Vicenza, vincitore di un concorso di idee, che prevede in cima, insomma in questo tetto, vedete il rendering, un prato, le aiuole e addirittura degli alberi. Ecco, così si presenterà questo nuovo Carducci. Poi mi immagino con la manutenzione, ma questa è un'altra storia. Poi, sui tirocinanti, la storia dei tirocinanti, la regione ha pagato, ma il Comune non ritrova quei soldi, botta e risposta tra l'assessore regionale Saltamartini e l'assessore comunale Tinti, che prende tempo. L'Agrario Cecchi, invece, è una perla e finalmente lo valorizziamo, sopra luogo a Villa Caprilla Pesaro dell'assessore regionale Baldelli, mentre sulla questione della devastazione ambientale lungo il Foglie, il fiume che passa a Pesaro, dice nessuna devastazione, l'assessore Aguzzi dice, l'assessore regionale dice, non devastiamo, ma tuteliamo il Foglia, nessuna devastazione ambientale, sul taglio indiscriminato di alberi, lungo il Foglia, l'assessore regionale dell'ambiente, replica all'interrogazione del gruppo 5 Stelle di Pesaro, che ha parlato di lavori in zona Lago Peserini, che hanno assunto le dimensioni della devastazione, con l'abbattimento di centinaia di alberi, principalmente Salici e Pioppi, ma anche un vasto campionario di varietà. La storia, ve la ricorderete, l'abbiamo commentata anche qui in Rassegna Stampa, di quei ragazzi che a un certo punto si accorgono che all'Iper a Pesaro c'erano delle persone che stavano entrando per rubare, insomma danno l'allarme, quindi avvisano la polizia, la polizia arriva, effettivamente vede questi furfanti che volevano entrare, eccetera, eccetera, però al posto di ringraziare, probabilmente l'avranno fatto, ma insomma di ringraziare questi ragazzi che però arrivavano da fuori comune, li hanno multati perché essendo in zona rossa non potevano essere lì davanti al Rossini. È una storia che, insomma, un po' così, agrodolce. E allora a Tavuglia adesso il sindaco Paolucci ha donato a questi ragazzi che hanno fatto questa segnalazione una pergamena e dice sono fiera di voi e le sanzioni gli verranno comunque annullate. Erano stati sanzionati perché andarono a fare la spesa fuori dal comune in residenza, quindi il paradosso, ma comunque alla fine non possiamo dire che qualcuno ha fatto bene e altri hanno fatto male. Tutti hanno fatto bene, anche i poliziotti hanno fatto bene, perché la legge è la legge, non è che uno perché è così... E quindi loro hanno fatto bene. Poi hanno fatto bene anche ad annullargliela gli altri. E quindi da una parte è stata rimessa a posto un po' la giustizia. Intanto le giovani con i rollerblade fermati in quattro dentro un'auto, un intervento della squadra a volante, erano in zona rossa, hanno violato la zona rossa e quindi sono state multate. L'altro ieri la squadra mobile di Peso l'ha sanzionato in tutto sette persone per le violazioni del decreto sugli spostamenti in zona rossa di queste sette persone, quattro sono ragazze che sono state fermate in zona mare a bordo di un'auto. Le ragazze avevano con sede rollerblade, cioè dei pattini con quattro ruote, tre di loro erano però di gabice, quindi da gabice sono andate a Pesaro a fare così, una passeggiata in zona rossa. Ripartono pressioni da Pesaro invece per ritentare la fusione con noi. Questo è l'allarme, tra virgolette, che arriva da Monbaroccio. Sapete che Monbaroccio ha già detto no alla fusione con Pesaro, ci fu uno scontro molto grande in quegli anni, se ne parlò tanto, ma adesso pare, pare che sulla fusione tra Pesaro e Monbaroccio c'è chi torna alla carica e non si rassegna al risultato del referendum. Un assessore del Comune di Pesaro avrebbe incontrato nei giorni scorsi il sindaco di Monbaroccio riproponendogli la questione della fusione tra i due comuni. Per quanto riguarda invece gli animali, le tartarughe, l'abbiamo visto in apertura di rassegna stampa, le burrasche e le acque troppo fredde, troppo gelide, creano non pochi problemi alle tartarughe. E adesso c'è una task force per salvarle. L'ultima soccorsa è stata Michela, ormai diamo i nomi anche le tartarughe, a Fosso Signore. Altri interventi anche a Marzocca e a Senigallia. Lo sbalzo termico non perdona e dunque sono rinvenute diverse carcasse di esemplari spiaggiati. I volontari pattugliano il litorale, l'esperto dice martedì sarà, martedì è stata la giornata più brutta. Invece la Senigallia insultato online, l'Iquerela, nel Mirino sono finiti due giovani di Senigallia ai quali sono stati sequestrati computer e telefonini per ulteriori accertamenti. E non è la prima volta. Anche l'ex sindaco di Senigallia, Mangialardi, era andato per vie legali. Poi le querele sono state ritirate. Intanto da sempre da Senigallia una persona, un pregiudicato 45enne, trova un bancomat e fa la spesa a scrocco. È stato denunciato ovviamente, dovrà rispondere di indebito utilizzo di pagamento. A Senigallia ieri si sono vissuti in tanto momenti difficili perché è andato a fuoco un canneto vicino alla foce del fiume Cesano, un inferno di fuoco divampato. L'incendio sarebbe stato innescato in più punti. Anche lì sul canneto ricordo battaglie infuocate, non è il caso di dire nel senso che c'è chi lo vuole ogni volta raso al suolo completamente annullato e chi invece lo vorrebbe tenere lì. Però si sa che in quell'area, in quella zona, soprattutto in estate ma un po' tutto l'anno, quel canneto che garantisce l'anonimato, l'oscurità, la privacy, eccetera, eccetera, spesso è teatro di incontri borderline come si dice, anche se a me non piacciono i termini inglesi, ma insomma molto al limite quindi spesso è teatro anche di furti che non vengono denunciati perché poi sono incontri un po' strani quelli che si fanno lì da quelle parti. Così raccontano le cronache dei giornali e evidentemente qualcuno ha pensato di porre mano prima che arrivi la stagione estiva con rimedi un po' brutali ma insomma dando fuoco a tutto questo canneto per evitare appunto che si ripeta come ogni anno tutta la tiritera. Intanto sugli anziani non deambulanti via le vaccinazioni a domicilio quasi tutti i medici di famiglia hanno aderito alla campagna scattata ieri iniziamo già con quelli prenotati quindi anche a Senigallia insomma si parla di vaccinazioni. Tacchinardi domenica c'è il derby tra il Fano e la Vis Pesero Tacchinardi il nuovo allenatore del Fano conferma il modulo il nuovo tecnico dovrebbe proporre il 3-5-2 nell'atteso derby con la Vis ma l'importante sarà alleggerire la pressione arbitro di questa partitissima arbitro marchigiano per il derby tra Alma Juventus Fano e Vis Pesero in programma domenica alle 15 allo stadio Mancini è Marco Dascanio 36 anni di Ancona la sua 17esima presenza in stagione inizia la messa prima era 25 ok scusatemi mi fermo ci vediamo stasera grazie a tutti